Sembrava finalmente la volta buona per spezzare la maledizione del Druso. Primo tempo di contenimento, avvio di ripresa più pimpante e il solito gol di Brighenti, ma a un quarto d'ora dalla fine Crialese casca nel tranello di Girasole. Rigore, Gliozzi trasforma e bisogna accontentarsi di un pareggio. A Bolzano i Grigiorossi si sono presentati con la novità Maiorino in attacco a fare copia con Brighenti. Stroppa ha messo in campo i due ex, Bassoli e Kirilov, cercando di fare la partita. La squadra di Pea ha atteso gli avversari nella propria metà campo, difendendosi con ordine. Poche le emozioni regalate nella prima frazione. Al tredicesimo gol annullato per fuorigioco a Girasole, servito dall'ottimo Tulli nell'occasione. Poi, al ventottesimo, grande invito di Bertoni per Kirilov fermato da una strepitosa uscita di Ravaglia. Nella ripresa parte decisamente meglio, la Cremonese è pericolosa già al sesto, con una conclusione di Maiorino e un paio di minuti più tardi, sugli sviluppi di un corner, è Crialese a costringere Coser alla parata in due tempi. Il gol dei Grigiorossi è nell'aria e arriva al sedicesimo. Calcio d'angolo battuto da Maiorino e colpo di testa di Brighenti. La palla sbatte contro Cia e poi trafigge il portiere del Suttirol. Per gli altoattesini è una mazzata e l'impressione è che la Cremo possa finalmente tornare a vincere al Druso. E invece, al ventottesimo, Crialese commette un fallo ingenuo in area su Girasole e l'arbitro decreta il rigore che rivitalizza i locali grazie alla trasformazione di Gliozzi. Sulle ali dell'entusiasmo, gli uomini di Stroppa provano a vincerla. In pieno recupero, Cia calcia clamorosamente alto su cross dalla sinistra di Crovetto. E soltanto un minuto più tardi, il neo entrato Spagnoli va a segno di testa, ma Di Gioia di Nola aveva già interrotto il gioco per una spinta dello stesso attaccante ai danni di Eguelfi. C'è ancora tempo per una punizione di Maiorino, ma Coser riesce a deviare in corner. Finisce 1-1. È il quinto risultato utile consecutivo per la Cremonese, attesa ora da due impegni sulla carta alla portata, contro Giana e Propatria. L'occasione giusta per tentare il decollo verso la zona play-off.